Il Giappone vince contro l'alacquota era clamorosa. Al Mondiale ogni giorno una sorpresa. Ieri è toccato all'Argentina cadere sotto i colpi dell'Arabia Saudita. Oggi è la volta della Germania, anche lei passata in vantaggio e poi rimontata da una Maidoma nazionale giapponese. Revitalizzata dai cambi è capace di imporsi per 2 a 1 sulla Manscaft. Segui l'algoritmo del Corriere dello Sport su Telegram. Germania. Che flop. Ecco quanto pagava la vittoria del Giappone nel calcio. Nulla è scontato e questi mondiali lo stanno dimostrando. Nel gruppo e la Germania partiva favoritissima contro il Giappone ma il campo ha raccontato un'altra storia. Al termine di un match avvincente e con occasioni, ed errori, da entrambe le parti la spuntata il Giappone per 2 a 1. La vittoria dei samurai pagava ben 7 volte la posta. Adesso Spagna-Costa Rica, altre sorprese in vista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.